La zona rossa, dispiace averla ma a suo punto è meglio di sì, perché secondo me avremmo dovuto essere zona arancione già da prima, non gialla, avremmo dovuto prendere i provvedimenti già da prima. È questione di categorie d'età secondo me, a me starebbe bene la zona rossa, per me pur di aprire le scuole, pur di dare sicurezza di lavoro, me ne starai anche un mese chiusa dentro. Ci sono già parecchi questi giorni, dopo non c'è tanta gente, sì beh soltanto questo viale qua insomma, non credo, se no è meglio che stiamo carcerati in che niente, dopo vedo che le mascherine ce l'hanno tutti quanti. Ovviamente no, non la vorrei, però se dovesse essere necessario sì, dà fastidio la limitazione a livello sociale, quello sì, nel senso che è da mesi che viviamo tutti con delle... Io personalmente ho dovuto restringere per forse che cosa le mie frequentazioni sociali, quindi ho una vita molto molto più limitata rispetto a prima. Questo, l'almitazione della libertà e anche l'impostibilità di avere una vita sociale come prima. Per me sì. Forse sì, forse no, non so. Perché forse sì e perché forse no? Giusto perché così si rallenta il contagio, no perché siamo in croce tutti quanti, quindi... ma comunque se ci vuole, ci vuole. Secondo lei ci vuole? Credo di sì. E secondo lei le persone stanno rispettando la zona arancione o poco? Pochino, ci sono tanti che... sì che non osservano scrupolosamente le norme. Per il momento sì, secondo me sì. Ci vorrebbe tutta, tutta Italia.